Aumentano gli infortuni sul lavoro anche mortali in Lombardia e in provincia di Como. La Cisla Lombardia ha elaborato i dati INA il 2018 dai quali emerge una tendenza preoccupante. In Lombardia gli incidenti mortali sul lavoro sono passati dai 139 del 2017 ai 163 del 2018. In provincia di Como gli incidenti mortali sono passati dai 2 del 2017 ai 6 del 2018. In aumento anche gli infortuni sul luogo di lavoro sempre in provincia di Como. 5.458 nel 2017, 5.560 nel 2018. Oltre 100 casi in più. Questi dati sono la dimostrazione plastica di un abbassamento della guardia negli ultimi tempi in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è l'insufficiente attività ispettiva da parte delle istituzioni preposte alla vigilanza, afferma Pierluigi Rancati, segretario regionale Cisla Lombardia. In questi dieci anni di crisi il fatto che i controlli abbiano interessato solamente il 5% delle 480.000 imprese lombarde ha fatto emergere la convinzione che si possa restare impuniti anche non rispettando le norme per la sicurezza. Occorre da subito, conclude il sindacalista, dare corso al programma straordinario deciso in Lombardia l'anno scorso rafforzando negli interventi anche grazie alle nuove risorse ottenute dalle ulteriori sanzioni applicate nel corso del 2018. Il numero più alto di infortuni in Lombardia si è verificato nel commercio e nella riparazione di autoveicoli e motocicli seguono i settori di trasporto e magazzinaggio, costruzioni, fabbricazione di prodotti in metallo e servizi di alloggio e ristorazione.